Noi di PubliCenter produciamo e personalizziamo card di alta qualità. Siamo tra i maggiori produttori in Europa e in 30 anni di storia abbiamo fornito nel mondo milioni di card a migliaia di clienti. La nostra sede centrale è in Italia, a Bologna. Operiamo in molti settori tra cui Financial Card Solution, Retail Card Solution, ID Card Solution, Transport Card Solution, Telecom Card Solution. Siamo a fianco dei nostri clienti in ogni fase della progettazione e del processo produttivo. Nei progetti creativi completi. Nella produzione delle card Nella personalizzazione della card Nell'imbustamento e nei servizi di fulfillment Nella postalizzazione e nella logistica nazionale e internazionale Noi di PubliCenter siamo guidati da valori nei quali crediamo fermamente L'eccellenza qualitativa dei nostri prodotti è il risultato di conoscenza, esperienza, attenzione La continua ricerca e sviluppo è il cervello pensante dell'azienda Le tecnologie che utilizziamo sono costantemente aggiornate e all'avanguardia L'attenzione alla sicurezza è totale Attraverso sistemi anti-intrusione, controllo accessi, chiavi di decriptazione e zone speciali Garantiamo un alto livello di sicurezza nello stabilimento, nella gestione delle informazioni e nella logistica Siamo attenti all'ambiente e al territorio in cui la nostra azienda vive, genera lavoro e accresce il benessere della nostra comunità Le persone sono il nostro cuore pulsante Le competenze e il valore delle donne e degli uomini che lavorano insieme ci portano costantemente a raggiungere traguardi ambiziosi Attraverso la continua formazione le persone crescono ed esprimono al meglio il loro impegno e i loro talenti Noi di PubliCenter pensiamo e realizziamo quello che i nostri clienti immaginano Grazie a tutti! Grazie a tutti!